Crimini di guerra, il crimine della guerra. Grande è la confusione delle avverse propagande sull'assurda guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina e totalmente inutile per formarsi un'opinione chiara. Ma le notizie che davvero contano restano segrete. Ad esempio, ben poco si sa sulle richieste che le parti si stanno scambiando nelle diverse sedi di trattativa avviate qua e là. Risulta anche chiaro che la Russia non mira oggi con le sue azioni militari alla conquista dell'intero paese, come poteva parere dalle avventate dichiarazioni con cui Putin ha annunciato la guerra al suo inizio, ma a realizzare quella parte dei suoi obiettivi che si possono conseguire sul campo. Ieri, tuttavia, il portavoce del primo ministro turco, che pure sta tentando una mediazione, ha reso note le condizioni di Putin per porre termine all'invasione. Non possiamo prendere assolutamente per buone queste dichiarazioni, dato che la Turchia ha interesse a far sembrare un accordo più vicino di quello che è. Tuttavia, sono abbastanza plausibili e coerenti con altre dichiarazioni e dunque vale la pena di esaminarle, sempre con beneficio di inventario. Ecco che cosa ha chiesto Putin. Neutralità di Kiev, cioè ritiro della richiesta di far parte della Nato, protezione della lingua russa, disarmo, cioè esclusione di basi militari straniere e di armamenti dall'estero, con garanzia dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, USA, Inghilterra, Francia, Cina e Russia, più un paio di altri paesi. Garanzia di intervento se l'Ucraina fosse minacciata da un'invasione. Denazificazione, cioè presumibilmente una legge che metta al bando i partiti nazisti, anche se al momento nel Parlamento ucraino c'è un solo partito di estrema destra con l'1% dei seggi, ossia con meno consenso di quello che hanno partiti analoghi in Germania o in altri paesi europei. Riconoscimento della sovranità russa su Crimea e Donbass. Sono semplici titoletti, ma in quanti tali mi permettono di dire che la guerra stessa non si sarebbe mai dovuta fare. Doveva essere l'Ucraina a realizzare per prima e spontaneamente questi obiettivi, che rientrano in quello che si può ritenere auspicabile per ogni paese, che debba esservi costretta da una guerra e inconcepibile. Anche io vorrei ad esempio un'Italia neutrale, fuori dalla NATO, disarmata ma garantita internazionalmente nella sua neutralità, capace di assicurare protezione alle lingue minoritarie del paese e di riconoscere l'autodeterminazione di chi non desidera farne parte. L'ultimo punto, tuttavia il più spinoso, in quanto lascia aperta la questione di quanto ampia debba essere l'accessione del territorio da parte dell'Ucraina. Dunque è per postare i paletti del confine qualche chilometro più in qua o più in là, che si sta continuando a combattere, uccidere e distruggere. Si stanno spegnendo migliaia di vite perché la Russia interessa davvero di acquistare il controllo di un territorio devastato e distrutto e l'Ucraina combatte non per mantenere l'indipendenza e la fragile identità nazionale, a cui attualmente la maggioranza della sua popolazione dice di credere, ma per qualche chilometro quadrato di territorio in più o in meno? E noi dobbiamo accettare il ritorno di questa inconcepibile politica di potenza e del nazionalismo nel cuore dell'Europa. Sono questi i veri crimini di guerra a cui l'Europa sta assistendo, perché la guerra stessa è un crimine. E dunque è un crimine anche schierarsi in qualche modo in una guerra altrui. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, articolo 11, della nostra Costituzione. Dunque anche la necessaria solidarietà a chi è aggredito deve restare rigorosamente dentro questi argini costituzionali. Il sostegno dovuto a chi subisce un'aggressione, anche a chi in parte se l'è andata a cercare, pur se questo non giustifica l'aggressore, non può diventare la partecipazione diretta alla sua guerra. Questo almeno se vogliamo restare nei limiti della Costituzione. Ma peraltro l'abbiamo già violata nel 1999, quando abbiamo partecipato alla guerra Nato contro la Serbia ed eravamo noi tra i diretti aggressori, noi gli assassini dei 2.500 ammazzati di Belgrado sotto bombe che erano anche nostre. Nessuno propose allora di processare Clinton e D'Alema come criminali di guerra. Sì, e a me piacerebbe vederli sul banco degli imputati di un nuovo futuro processo internazionale di Norimberga, assieme a Putin. a Putin. Grazie.